La galleria di Montebello torna a creare problemi all'amministrazione comunale a poco più di un anno dalla riapertura al traffico dopo mesi di polemiche. Il consorzio stabile SAC Costruzioni, l'impresa di Benevento che aveva eseguito i lavori dopo un braccio di ferro non da poco con l'amministrazione per le tempistiche, ha fatto richiesta al comune di 20 milioni di euro di quelle che tecnicamente vengono definite riserve, cifra che andrebbe ad aggiungersi ai 7 milioni e 4 già incassati per l'opera. Le riserve sarebbero fondi destinati a coprire spese impreviste nei lavori. Al netto che alla SAC sono state attribuite penali per 870 mila euro per i ritardi nei lavori, questa la replica la richiesta da parte del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Chi non è di Trieste erano quelli della galleria che ora le chiedono 20 milioni. Ma non chiedono 20 milioni, non prenderanno niente, semplicemente è sbagliato il titolo oggi. Quando abbiamo avuto Streaman, Saldo mi ha chiesto 25 milioni e hanno perso. Riccesi mi ha chiesto anche una marea di soldi e ha perso. Speriamo che perdano anche questi. Quindi chi va contro Di Piazza perde? Di solito sì. Grazie. Grazie. Grazie.